ciao sono valentina e oggi come potete un po notare faremo un unboxing quindi vi mostrerò tutte le cose che ho ricevuto dal sito co beats vi lascio tutte le info a riguardo nell'info box apritela così trovate sia il link diretto al sito sia a ogni singolo prodotto che adesso man mano vi mostrerò questa è una piccola panoramica e andiamo un po a scoprire che cosa ho scelto intanto ringrazio anche l'azienda che mi ha dato questa bellissima opportunità le prime cose che vi voglio mostrare sono questi fiocchetti ho preso praticamente uno stock adesso ne ho messi giusto tre ma ce n'era una ventina nel pacchettino di questi carinissimi fiocchetti super natalizi veramente bellissimi fatti in questo modo con la pinzettina sono rossi in questo tessuto fatto a retina un po trasparente rosso ci sono dei disegnini che richiamano ovviamente il natale ci sono i pupazzi di neve c'è non ci sono le varie scritte di auguri i fiocchettini natalizi di vari colori e sono molto molto carini ovviamente non sono come potete notare tutti uguali perché il tessuto non può essere uguale per tutti ma è anche molto carina questa cosa e al centro c'è questo fiocchettino di neve tutto glitterato azzurro che si intona anche alle mie unghiette ho deciso poi di prendere un altro stock in questo caso sono dei cerchietti neri in velluto abbastanza spessi non sono quelli che vanno di moda adesso bombati perché ho pensato di prendere una linea classica e sopra poi andrò a fare le mie applicazioni altro cerchietto che ho preso questo qua che adesso vi spacchetto però volevo far vedere anche come arrivano le cose ecco ci tenevo anche a dirvi che quando ho aperto il pacco è stato molto difficoltoso lo spacchettamento appunto perché lo hanno super mega scocciato e questa è una cosa super positiva perché ok fatichi ad aprire però poi è anche bella questa cosa perché sai che le cose ti rimangono lì e anche come vedete ogni singolo prodotto era impacchettato imbustato nei suoi sacchettini ad esempio questi cerchietti erano all'interno di questa busta e poi il tutto chiuso all'interno del pluriball quindi davvero sicurezza anche se qua non c'era nulla che si rompeva però anche solo i movimenti possono andare a rovinare come in questo caso le applicazioni quindi ottimo ottimo io sono rimasta veramente colpita positivamente su questo fatto del packaging perché è molto importante poi arrivando dalla cina le cose sappiamo che possono essere sballonzolate di qua e di là ecco su questo possiamo stare tranquille tornando a noi vi mostro adesso il cerchiettino che ho preso questo è fatto in tessuto nero con tutte queste applicazioni sull'oro è un cerchietto abbastanza importante che ho preso sinceramente per me per indossarlo magari a qualche evento particolare a qualche festa eccetera adesso vediamo un po comunque voi seguitemi su instagram perché lo vedrete sicuramente indossato rimaniamo in tema cerchietti vedete anche qua un bel paccone ho preso uno stock di cerchietti sul grigio c'era da scegliere varie colorazioni con coroncina adesso vedo se puoi andarli a decorare oppure venderle in questo modo perché sono anche molto carini così semplici ho preso la colorazione grigia perché richiama un po l'argento ovviamente se ci fosse stato oro avrei preferito però anche questo è molto carino passiamo a questa scatolina vedete anche la scatolina inserita nel sacchetto e contiene alcuni cabochon mixati ecco questi li ho presi proprio per fare le mie applicazioni sugli accessori per capelli ecco qua sono acrylic bits adesso apriamo così vediamo insieme anche come chiuso guardate la protezione ed ecco qui i vari cabochon e vedrete applicati appunto sugli accessori per capelli che ho in mente di realizzare altre applicazioni che ho deciso di prendere sempre per gli accessori per capelli e questo bel pacchettino pieno di cuori tutti colorati ci sono anche fatti in madre perla è veramente un bel mix eccoli qua e anche vedete diverse dimensioni e l'ultimo pacchettino contiene più cose sempre per quanto riguarda il natale ho voluto prendere questi fiocchettini di neve colorati guardate che belli come sono brillanti danno veramente un tocco di luce adesso non vedo l'ora di andare subito ad applicare anche solo adesso vi faccio vedere un esempio con il cerchiettino vedete applicato qua da un sacco di luce poi ai capelli ultimi pezzi che ho preso sono questi quattro pacchettini di bottoncini fatti azzurri con pua fucsia eccoli qua sono molto leggeri in tessuto carinissimi bene questo è tutto il bottino di kobeats ringrazio ancora tantissimo l'azienda mi piace tutto quello che ho preso vedo che la qualità è molto molto buona essendo tutti prodotti comunque cinesi non sempre sono di qualità questi vi devo dire di sì veramente sono ben fatti non hanno nessun tipo di difetto soltanto i fiocchettini mi sono arrivati con alcuni pezzi di colla che ho dovuto togliere ma è normale questo quindi nessun problema per qualsiasi cosa vi rimando all'info box se invece volete comunicare direttamente con me scrivetemi un commentino qua sotto fatemi anche sapere se avete già avuto modo di comprare da questo sito che cosa avete preso se vi siete trovate benissimo come me oppure no io vi saluto vi do un bacio e ci vediamo prestissimo con un nuovo video ciao